madonna dottore ma che mi sta succedendo qui sto invecchiando ma non solo qui anche lì sto invecchiando e sì cari amici e amiche all'ascolto anche i genitali seguono il corso del tempo e quindi anche il pene e la vagina diventano estremamente sensibili ai cambiamenti del tempo e quindi invecchiano e cambiano perciò quello che oggi qui vediamo insieme è cosa può succedere a livello di cambiamento ai tuoi genitali soprattutto oggi parliamo del pene nel prossimo video invece parleremo dei cambiamenti della vagina questo perché perché non dobbiamo allarmarci se vediamo dei cambiamenti importanti ma appunto immaginare che è un processo fisiologico in fondo come cambia la pelle del viso come cambia la pelle del corpo cambia anche la pelle dei genitali questo perché i corpi cavernosi che rivestono il pene aumentano la quantità di collagene ma riducono la tonicità della pelle e questo è molto più evidente quando il pene è in uno stato flaccido la bella notizia è che però non cambiano le dimensioni quindi quelle resteranno invariate cambierà sicuramente l'aspetto estetico e la tonicità e la percezione quindi cambierà anche il tuo genitale ma la pelle notizia che diventerete quasi tutti shower ovvero un termine inglese che viene utilizzato per descrivere quei pene che non cambia molto di dimensione dall'erezione allo stato di flaccidità quindi non ci sarà una grande differenza la grande differenza che noterai sarà appunto sulla pelle sulla tonicità perché appunto sul pene al di là rispetto ad altre zone del corpo non ci sono stati adiposi quindi in quello che succede che si perderà facilmente la tonicità chiaramente come dicevamo questo non incide sulle dimensioni ma può incidere sul colore per esempio del pene che ti sembrerà o leggermente più scuro una cosa a cui prestare molta attenzione è la presenza dei nei nella zona genitale sì perché come avviene che si creano nel resto della pelle si possono creare anche nella zona genitale quindi nei che sembrano più ampi che sembrano più spessi vanno comunque controllati e bisogna appunto agire in maniera corretta anche proteggersi perché si possono creare dei melanomi anche nella zona genitale attualmente non esistono delle creme specifiche di copertura solare per la zona genitale però diciamo che la cosa importante è mantenere protetti i vostri genitali quindi abbiamo visto le dimensioni non cambiano non cambierà la prestazione appunto qualora non ci sia un elemento di caldo di desiderio in potenza difficoltà reattiva ma questo è un altro discorso oggi parliamo appunto di come cambia il pene invecchiando e cambierà piuttosto il colore quindi lo vedrete più scuro e diventerete quasi tutti shower ora vediamo se ci sono dei cambiamenti a livello di sensibilità allora per quanto riguarda la funzionalità possiamo dire che col passare del tempo il pene potrebbe perdere qualche colpo attenzione non tremate che cosa intendo dire intendo dire che caleranno un po le erezioni mattutine e soprattutto quelle involontarie la buona notizia è che però si potrebbe ridurre la 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 gettata dell'eiaculazione infatti cambierà la gettata dell'eiaculazione ma cambierà anche la qual la quantità dello sperma quindi questi cambiamenti ci saranno ma non saranno dei cambiamenti che porteranno una difficoltà per quanto riguarda la vostra soddisfazione sessuale e anche della partner certo dobbiamo sempre prestare attenzione al caso del desiderio ma lì non c'entra niente l'invecchiare o non invecchiare lì dobbiamo lavorare più sul desiderio e più lo stimolo appunto del desiderio che deve essere mantenuto negli anni quindi diciamo che il pene invecchia ma non si trasforma del tutto e soprattutto non andrà completamente a cambiare la vostra vita sessuale però attenzione perché il pene viene definito l'orologio del cuore cosa intendo dire? intendo dire che un po il pene ha un funzionamento vascolare come quello del cuore quindi qualora vedeste dei cambiamenti vascolari alla zona dei genitali è molto importante immaginare che questo cambiamento possa avvenire anche a livello cardiaco quindi quando notate questo oltre a fare una visita andrologica o urologica rivolgetevi a un cardiologo perché è importante tenere in considerazione entrambi gli aspetti bene siamo alla fine del video quindi se ti è piaciuto metti un like iscriviti al canale per rimanere aggiornato o aggiornata sui prossimi temi in uscita se hai delle domande specifiche scrivile qua sotto nei commenti che ti rispondo il prima possibile e noi ci vediamo qui sempre per un prossimo video e sempre per un prossimo tema ciao